Salve, nei prossimi video vi farò vedere come realizzare dei motivi sfruttando la struttura proiettiva del triangolo equilatero. In questo primo video vi farò vedere anche come realizzare i triangoli equilateri, dai prossimi partirò direttamente col triangolo già fatto. Se avete bisogno di rivedere come fare il triangolo potete ripassare da questo video. Come prima cosa io ho diviso il foglio in due parti sfruttando la linea di mezzo, in questo caso sto usando un foglio già squadrato. Come procedere? Facendo un rapido calcolo, per realizzare un triangolo più o meno centrato vado a prendere come misure circa 5 cm partendo dal basso. in questa posizione e vado a tracciare con la 2H una linea orizzontale che vado a prendere tutto il mio foglio. Ovviamente la figura risulta più o meno centrata, non è perfettamente il centro ma è una buona approssimazione. Quindi con la 2H traccio questa linea che è una linea di costruzione e vado a prendere da questa parte e poi lo vedrò anche dall'altra un centimetro e mezzo. Quindi farò partire il mio triangolo da qui. Siccome devo disegnare un triangolo equilatero dato il lato e il lato è di 12 cm, dal punto che io ho individuato vado a tracciare una linea di 12 cm. La stessa cosa la faccio dall'altra parte, partendo dal centro della linea centrale vado a calcolare, a misurare un centimetro e mezzo e con la HB vado a prendere la misura di 12 cm. A questo punto posiziono il mio album da disegno sotto il foglio, prendo il balaustrone e puntando prima in un estremo poi nell'altro lo allargo di 12 cm quanto il lato e vado a tracciare un archetto, non serve tracciarlo tutto, mi basta andare a tracciare un archetto che sia più o meno nella posizione centrale punto dall'altra parte e faccio la stessa cosa, vado quindi ad individuare un punto che sarà il vertice del mio triangolo quindi faccio la stessa cosa di quest'altro triangolo vado quindi a individuare anche questo punto individuato il punto posso togliere il mio appoggio e vado a tracciare i lati del mio triangolo equilatero che posto così è abbastanza centrato allora il primo disegno che vi faccio fare prevede la divisione di ognuno di questi lati in quattro parti ora io ho scelto una misura facile 12 cm 12 cm facilmente divisibile per 4 12 diviso 4 fa 3 cm quindi non devo fare altro che dividere con il mio righello ogni lato in 3 cm ma per quanto riguarda la base del mio triangolo vorrei farvi vedere come realizzare in maniera precisa questa divisione perché a volte potrebbe capitarvi di dover fare questo lavoro con un lato non facilmente divisibile quindi come procedo utilizzo la tecnica per costruire il punto medio balaustrone apertura un po' più della metà traccio un archetto di qua un archetto nell'altra direzione e faccio la stessa cosa dall'altra parte ovviamente mi tengo molto leggera e a questo punto allineando i due punti che ho individuato posso andare a trovare quello che è il punto medio andando a dividere il mio lato in due parti la stessa cosa la posso fare con questi altri due pezzi visto che lo devo dividere in quattro anche questo e anche questo devo dividerle in due parti quindi riduco ovviamente la dimensione del balaustrone perché la misura è più piccola quindi archetto di qua archetto di qua archetto da questa parte archetto da questa non l'ho preso benissimo quindi andiamo a risistemarlo faccio la stessa cosa dall'altra parte perché la misura è la stessa quindi la dimensione può andar benissimo e vado ad individuare questi altri quattro punti che come prima vado a congiungere in questo modo così siete sicuri di aver trovato il punto medio ora come ho detto ho scelto di dare una misura facilmente divisibile per 4 anche per 3 anche per 2 e fino a 6 quindi ci permette di spaziare abbastanza su tutti i nostri disegni che noi andremo a fare per cui i prossimi li vado semplicemente a prendere come misura ma sappiate che questo è un buon modo anzi è il modo più corretto per dividere il vostro foglio in quattro parti il vostro segmento in quattro parti in questo caso vado a prendere assicurarmi che sia in 12 cm quindi lo vado a dividere in quattro parti 3 6 e 9 e poi arriviamo fino a 12 e faccio la stessa cosa dall'altra parte 3 6 e 9 e poi 12 allora il primo disegno non faccio altro che collegare i punti in orizzontale quindi mi posiziono in questo modo e con la 2H e con l'HB scusate vado a tracciare le linee orizzontali così poi vado a fare la stessa cosa in questo senso e per concludere lo faccio dall'altra parte come vedete a livello pratico il disegno è molto semplice ora quello che va fatto è colorare i triangoli che ho ottenuto che sono tutti triangoli oculateri di due colori in maniera alternata per l'altro disegno invece è leggermente più complesso vado sempre a dividere il mio il mio triangolo in quattro parti per renderlo più facile quindi 3 6 e 9 e anche dall'altra parte 3, 6 e 9 la prima cosa da tracciare nella struttura proiettiva è l'altezza relativa a tutti e tre i miei lati per cui posiziono la squadra posiziono l'altra appoggiandomi sulla prima e con la 2H perché sto facendo delle linee di costruzione vado a congiungere il mio vertice con la base successiva se ho fatto bene il lavoro il punto centrale dovrebbe coincidere con la metà del lato una volta tracciate tutte sempre se il lavoro è fatto bene le tre diagonali arriveranno in un unico punto centrale che è l'ortocentro del vostro triangolo una volta tracciate con la 2H vado a riproporle con l'HB perché faccio un doppio passaggio unicamente per assicurarmi di aver fatto un lavoro corretto quindi prima mi assicuro di averlo fatte bene e dopo quando sono certa del disegno posso andare a ripassare le altre linee andranno collegate con la metà del lato quindi mi posiziono e traccio una linea che va dal vertice al punto meglio di quest'altro segmento la stessa cosa la faccio dall'altra parte sempre con la 2H in questo caso perché sto sempre facendo delle linee di costruzione per assicurarmi che il lavoro sia fatto bene bene adesso vado anche qui a ripassare ogni linea si ferma dopo che ha incontrato due altezze praticamente questa si andrà a fermare in questo punto parto dal vertice incontro la prima altezza incontro la seconda e mi fermo dall'altra parte stessa cosa mi posiziono in modo che sia su questa linea parto dal vertice incontro la prima incontro la seconda altezza e mi fermo stessa cosa faccio per gli altri vertici mi posiziono parto da questo vertice incontro la prima altezza incontro la seconda e mi fermo sempre da questo vertice mi posiziono in questo modo incontro la prima altezza incontro la seconda e mi fermo e l'ultima va a congiungere in questo modo i punti restanti questo è il disegno per andare a colorarlo andrò a colorare alternativamente ognuno di questi spicchi e andrò a colorare